Buongiorno, ben trovati. 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 Paola si fa quella libera. Arriva anche il Sesto KO di fila, con Piacenza. Vediamo le altre notizie che riguardano Teramo e Provincia. Andiamo a Giuglianova di Carlo. Meno tele rischi per il turismo. Questa la notizia che poi troveremo all'interno del Giornale. Andiamo a vedere anche l'edizione del Centro di Chieti lanciano vasto. Ecco qui il titolo di apertura va all'asta, l'ex Conceria dei Veleni, Chieti in vendita a 355 mila euro, i capannoni a rischio inquinamento. Vediamo in questo caso lo sport sull'edizione di Chieti del centro, si parla della vastese in particolare, la vastese dei miracoli di Gianluca Colavitto che vola in classifica, settimo risultato utile consecutivo per i biancorossi, ieri doppietta di Leonetti per superare per 2-1 l'Olimpia Agnonese, terzo posto in classifica per la formazione vastese e per il Chieti, pareggio per 3-3 Chieti che era sotto, per 0-3. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, pittrice, la verità nelle lettere, si parla ovviamente della ricerca della donna scomparsa, Giulianova e i carabinieri trovano e sequestrano la corrispondenza con il marito e il figlio, lei pretendeva 3 mila euro arretrati di mantenimento ma per i familiari erano solo 1.800. Vediamo anche le altre notizie dalla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, spara un colpo di pistola alla compagna, vedete il titolo di spalla, la donna ferita all'addome gravissima, a Venzanese arrestato per tentato omicidio e poi all'Aquila più sicurezza sulla strada della morte, parliamo dell'incidente costato la vita alla 27enne Valentina Fior di Gigli e poi vediamo anche l'articolo di spalla del lunedì, si parla di università, numero chiuso a medicina, partono i ricorsi al TAR, vediamo anche in alto come sempre i richiami che riguardano lo sport, si parla di serie B del Pescara, ne parla il doppio ex di questa sfida e di Bibi, Pescara niente illusioni a Bari, gara difficile per i biancazzurri domenica prossima al San Nicola e poi serie C, Teramo ancora in bianco con il Sud di Roll, ha rischiato anche la sconfitta e la serie D e va stese esulta con Leonetti gol, pareggio tra Avezzano e l'Aquila. Possiamo andare rapidamente a vedere anche l'edicola nazionale, i quotidiani che sono oggi in edicola, partiamo dal Corriere della Sera, si parla su tutti i giornali di oggi ovviamente delle elezioni in Sicilia, ha iniziato questa mattina lo spoglio, ci sono gli exit poll centrodestra avanti di poco, lo spoglio dei voti reali solo questa mattina. Sicilia, Musumeci in testa, tallonato, Musumeci del centrodestra, tallonato dall'esponente, dal candidato dei 5 Stelle, cancellieri il PD sotto il 13%, accusa grasso e vedete le percentuali con una forbice ovviamente a seconda degli exit poll, con Nello Musumeci in testa, poi cancellieri e poi al terzo posto, almeno secondo gli exit poll, l'esponente del centrosinistra, più indietro Claudio Fava della sinistra. In alto, vedete poi elezioni regionali, parla Micciche che dice abbiamo fatto un miracolo l'esponente di centrodestra, Salvini, l'esponente invece nazionale della Lega, chiede subito le elezioni politiche. Andiamo avanti, Repubblica, Sicilia, il crollo della sinistra, vedete il titolo ancora più netto del quotidiano Repubblica, flop PD e Bersaniani, il centrodestra avanza ma è testa a testa con i 5 Stelle, affluenza sotto il 50% e poi la follia negli Stati Uniti, la sparatoria durante la messa, un uomo spara all'interno di questa chiesa, almeno 27 le vittime, il killer è stato poi ucciso dalla polizia, questo folle che ha commesso una strage proprio in Texas ed è purtroppo l'ennesima volta che accade negli Stati Uniti. Andiamo al quotidiano, la stampa di Torino, centrodestra avanti, Movimento 5 Stelle ad un passo, solo terzo, il candidato di Renzi e poi vedete anche sulla stampa Texas massacro durante la messa, 20 morti ma probabilmente abbiamo visto anche dagli altri titoli potrebbero essere di più le vittime, il sole 24 ore, caccia al bonus migliore per il lavoro dei giovani, l'apprendistato costa meno, ma fatica a decollare e poi il fatto quotidiano che ovviamente volge l'attenzione sulle elezioni in Sicilia, come vi dicevo questa mattina lo spoglio e dunque a ora di pranzo i primi dati ufficiali, destra un passo avanti ai 5 Stelle, Renzi affondato, Alfano estinto, questo è il titolo del quotidiano Il Fatto. Vediamo a proposito di dati gli Exipol, Nello Musumeci del centrodestra tra il 36 e il 39%, Giancarlo Cancellieri del Movimento 5 Stelle tra il 34 e il 37%, poi molto staccato Fabrizio Micari del centrosinistra tra il 16 ed il 20% e poi Claudio Fava della sinistra tra il 6 ed il 9%. Andiamo al messaggero Sicilia centrodestra avanti al Movimento 5 Stelle per gli Exipol Musumeci in testa. E poi si parla anche di elezioni perché ieri il Consiglio Comunale di Ostia era stato sciolto tempo fa per infiltrazioni mafiose. Andiamo avanti, il tempo di Roma, Minchia che è centrodestra, questo titolo che si rifà proprio a questa espressione tipicamente siciliana. In Sicilia Musumeci in vantaggio di tre punti sul candidato grillino crolla il Partito Democratico, se oggi lo spoglio confermerà i primi dati, cambieranno le sorti politiche del Paese. Vedete a Ostia, vi dicevo, vince il maltempo, seggi deserti. E poi c'è anche un richiamo di sport, Impero Romano, perché la Roma del pescarese Eusebio Di Francesco passa anche allo stadio Artemio Franchi di Firenze, 4 a 2 con la Viola e Roma che ottiene il dodicesimo successo in trasferta. Siamo a Libero, sinistra sfasciata, primo verdetto delle elezioni in Sicilia, il voto sull'isola sancisce la disfatta di renziani e antirenziani divisi tra loro e ignorati dagli elettori. E poi una notizia che riguarda Tugliani e vedete nella foto, titola Il Quotidiano Libero, ci volevano gli arabi per arrestare Tugliani e la giustizia islamica più efficace della nostra. È stato fermato Giancarlo Tugliani proprio all'estero, dove si trovava già da diverso tempo. Siamo al mattino di Napoli, centrodestra avanti, il Movimento 5 Stelle insegue, questo è il titolo del quotidiano napoletano, la Gazzetta del Mezzogiorno, dalla Sicilia niente sorprese, gli exit poll musumeci avanti nelle elezioni in Sicilia. Allora abbiamo esaurito l'edicola nazionale, possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra, ripartiamo dal centro, pagina 2, si parla di sanità, di buona sanità, interventi chirurgici agli occhi, la chirurgia del futuro è sbarcata in Abruzzo, vedete Chietil 3D passa dalla finzione cinematografica alla sala operatoria, il professor Leonardo Mastropasqua opera i pazienti con la ripresa tridimensionale. E poi in basso si parla invece di ambiente, la marcia degli ambientalisti per salvare l'acqua del Gran Sasso, manifestazione che si terrà a Teramo. E poi la cronaca, accecato dalla gelosia, spara alla compagna, un colpo di pistola all'addome di lei che ora lotta contro la morte in ospedale, la vezzanese Eramo, rintracciato nella notte, arrestato per tentato omicidio, da come leggiamo sulle pagine del centro. E poi in basso uno scuolabus per l'Abruzzo, il dono dei carabinieri, siamo a Civitella del Tronto, vedete nella foto il generale Tullio del 7. E poi l'indennità tagliata, lettera a rosato per il capogruppo del PD alla Camora, del Partito Democratico appunto, per le ex guardie mediche, ancora polemiche, per queste indennità tagliate, ne avevamo parlato più volte anche nelle settimane scorse nel nostro Tg. Siamo alla cronaca di Pescara, dal centro i dolori della Tari, questo è il titolo di apertura, tassa rifiuti, mancano all'appello 32 milioni, il Comune svela gli incassi negli ultimi 5 anni, ci sono migliaia di contribuenti che non hanno ancora pagato e a fine novembre scade l'ultima rata, dunque molti morosi a Pescara per quanto riguarda la Tari e casse comunali che piangono, come si sol dire, gomme da neve in auto, l'obbligo dal 15 novembre, torno nel territorio comunale, dunque anche a Pescara il divieto di circolare dal 15 novembre, senza pneumatici invernali o catene a bordo. E poi l'ex sede dei vigili urbani trasformati in uffici via al progetto per l'immobile di via del circuito, sarà affidato a Pescara Energia e Protezione Civile, questo è l'edificio restaurato, edificio storico restaurato in via del circuito a Pescara. Cronaca, Ferraresi è derubato in casa, colpo da 10 mila euro, l'ex centrocampista del Pescara vittima dei ladri, spariti gioielli, orologi e contanti, le telecamere potrebbero aver ripreso tutto, un malvivente è rimasto ferito. E poi Protezione Civile, da domani via al Corso Base, da volontario in via Polacchia a Pescara, e poi Blitz della Mobile in via Lago di Capestrano, vende la cocaina in casa, 38enne, finisce. Ai domiciliari proseguiamo, la nuova strategia contro i furti, siamo a Montesilvano, la targa gratuita piace, marchiate 1700 biciclette. E poi, ragazzi, tirano sassi contro un'auto, paura all'uscita della galleria Le Piane, parabrezza distrutto, illesa la conducente. E poi a Francavilla, Francavilla in regola con il piano di emergenza, questa è la replica del comune francavillese alla consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Andiamo avanti, cronaca di Chieti del centro, Capannoni abbandonati, l'ex conceria dei Veleni all'asta per 355 mila euro, la fabbrica da 40 mila metri quadrati al centro di una vendita giudiziaria, la perizia del Tribunale di Roma, degrado totale, rischio contaminazione. E poi a vasto, rapina fallita alle poste, caccia ai tre banditi, immortalati per pochi secondi a volto scoperto dalle telecamere, ricerche fuori regione per rintracciare l'auto. Siamo alla cronaca dell'Aquila, tragedia sulla strada statale 17, il sogno infranto dell'ingegnere Valentina, il dolore della comunità di Paganica e del ricordo commosso di Don Federico. Era una persona bella e generosa, questa 27enne morta in questo incidente stradale sulla strada statale 17. E ora tutti, dopo l'ennesima tragedia, chiedono una strada più sicura. L'Iris, questa tragedia ha sconvolto tutti, quell'incrocio va messo a posto il prima possibile. Cambiando argomento, ci spostiamo ad Avezzano, la statua in onore e in ricordo di Taccone in piazza Cavura ad Avezzano. Il monumento dice addio al Salviano, l'accordo tra il sindaco De Angelis Morelli ed il figlio del camoscio d'Abruzzo, Cristiano Taccone. Un ricordo di Vito Taccone che ha fatto la storia del ciclismo italiano e non solo abruzzese, anzi direi del ciclismo anche mondiale perché è stato un grande campione che davvero ha regalato soddisfazioni a tutti gli appassionati di ciclismo. Siamo a Teramo, la pittrice è sparita, per meglio dire a Giulianova. Si cerca con i droni il corpo di Renata. Ispezionata Giulianova, l'area vicino all'abitazione dell'ex marito e del figlio per gli inquirenti, la donna sarebbe morta. Vedete poi questo riquadro in grigio di spalla. Sarà ascoltata anche la figlia, i carabinieri di Ancona. Infatti ascolteranno anche la 28enne Maria Chiara Santoleri, l'altra figlia di Renata e Giuseppe, Renata Rapposeli, di cui non si hanno più notizie. Da giorni in basso, incidente in galleria assolti, due dirigenti dell'ANAS imputati anche nel processo per lo scontro mortale nel tunnel. Poi una tragedia, Sant'Egidio, la vibrata, si uccide a 19 anni il corpo trovato dal padre. Siamo arrivati allo sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Partiamo, dopo aver visto in apertura di questo appuntamento con Mattino 6, la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Vediamo le pagine interne. Partiamo da Pescara, Parco Florida chiuso verso lo scontro tra comune e proprietà. La società del gruppo D'Andrea rispolvere il vecchio progetto per 120 box auto, ma spunta un atto di concessione datato 2005. Poi la droga del sabato nella rete spacciatrice di Coca e poi Montesilvano, niente LED sulle strisce pedonali. Siamo all'Aquila, basta con la statale della morte, la strada va messa in sicurezza. Torniamo a parlare di questa vicenda, della scomparsa della morte di Valentina Fior di Gigli, morta in questo incidente stradale. E poi abusi edilizi, gli esposti da esaminare sono 1.755. Siamo all'Aquila e poi auto speronata. Il Kosovaro non aveva bevuto, si parla delle indagini su quanto accaduto nelle ultime ore. E poi in basso Pezzopane e Pietrucci. La giustizia sia severa, si parla sempre, ovviamente si ritorna a parlare di questo incidente mortale dell'Aquila. L'onorevole Pezzopane e il consigliere regionale Pietrucci chiedono ovviamente giustizia per eventuali responsabili. Restiamo all'Aquila, grippo la conferenza stampa, non dovevo concordarla, parla l'ex comandante della Polizia Municipale dell'Aquila con un botta e risposta con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, troviamo anche qui ovviamente la notizia che riguarda quanto accaduto nella serata di Ieri. Tenta di uccidere la compagna arrestato, successo nella notte a Sora, l'uomo Mario Eramo di 50 anni vive ad Avezzano a numerosi precedenti. Aveva invitato a cena la donna, una 33enne di origini littuane, in compagnia dei parenti alla base. Ci sono motivi di gelosia. Dunque quanto accaduto a Sora in Ciociaria nel Lazio, ma protagonista di questa vicenda, è un avezzanese, poco tempo fa aveva minacciato un altro uomo con il quale la vittima ora si stava incontrando. Ancora Avezzano, disastro treni, linea bloccata, senza elettricità. In basso ci spostiamo in Valle Peligna, Sulmona, Bretella, la stazione rischia di essere declassata. Protesta dopo la visione del progetto. La città rischia l'isolamento e poi a Pettorano, Sulgizio, uccise Orso Marsicano, operaio, va a giudizio. Andiamo avanti con la pagina che riguarda Chieti, sempre sul messaggero. Palazzo d'Achille, dopo quattro mesi possono partire gli ultimi lavori, arriva il Via Libera alla perizia di Variante, opere per 560 mila euro, grazie alle economie. E poi la cronaca, ci spostiamo nel Vastese a Casalbordino, strattone ai carabinieri, 29enne, arrestato. E poi in basso Ortona, proroga del pronto soccorso, Paolucci, assessore regionale alla sanità, sarà oggi ad Ortona e poi a Lanciano, morte prematura della Paolini. Oggi i funerali di Emilia Giuliana Paolini in cattedrale proprio a Lanciano. Siamo a Teramo, torniamo a parlare anche dalle pagine del messaggero della vicenda, della pittrice Renata Rapposelli. La verità nelle lettere, sequestrata la corrispondenza, il blitz dei carabinieri in casa, Santoleri, portati via anche quattro telefonini. Lei pretendeva 3.000 euro di arretrati, ma per padre e figlio erano solo 1.800. Poi vedete di spalla la notizia di Sant'Egidio, la vibrata, questo 19enne che si è tolto la vita, il corpo è stato trovato dal padre. Poi Martinsicuro, due vie disastrate, arriva la potresta del Partito Democratico, Giulianova, allagamenti in via Venezia, i residenti fanno le valigie. E poi si parla invece di quello che sta accadendo a Teramo della crisi in Consiglio Comunale o quasi crisi. L'ex assessore Di Stefano per il post Brucchi, questa è la domanda che si pone il messaggero. Crisi di maggioranza, scontro aperto tra Ghiattiani ed il vice sindaco Dodo Di Sabatino. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci a questo punto per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 e parleremo ovviamente di sport e andremo a vedere tutti i servizi delle gare giocate ieri sui campi di calcio, gare che hanno ovviamente riguardato le formazioni abruzzesi di Serie C e Serie D. Torniamo in studio, seconda parte di Mattino 6, come detto interamente dedicata allo sport. Partiamo dai titoli dei quotidiani sportivi nazionali, apertura con la Gazzetta dello Sport. Mucchio, Scudetto, Napoli stop, il Toro spaventa l'Inter, la Juve sorpassa seconda a meno uno, vola la Roma. Dunque al momento sono queste le squadre in lotta per lo Scudetto, ma la notizia del giorno, della giornata di ieri, è la rimontella, così chiamata dalla Gazzetta dello Sport del Milan. A Reggio Emilia decidono Romagnoli e Suso, il tecnico batte il Sassuolo e si salva. Ora è settimo da solo, Milan settimo in classifica. A proposito, vediamo i risultati con questo specchietto della Gazzetta dello Sport, i risultati della Serie A e la classifica. Sabato i due anticipi con la vittoria del Crotone per 3-2 al Dallara di Bologna e della Sampdoria nel derby della Lanterna con il Genoa. Sampdoria che da calendario giocava in trasferta. Poi ieri Inter-Torino 1-1, Cagliari-Verona 2-1, Chievo-Napoli 0-0, Fiorentina-Roma 2-4, Juventus-Benevento 2-1, Lazio-Udinese rinviata per pioggia, Atalanta-Spal 1-1, Sassuolo-Milan 0-2, classifica Napoli 32, Juve 31, Inter 30, Lazio 28 con la Roma 27, ma entrambe le squadre hanno una gara in meno. Sampdoria 23, Milan 19, Torino 17, Fiorentina-Atalanta, Chievo 16, Bologna 14, Udinese-Cagliari-Crotone 12, Spal 9, Sassuolo 8, Genova-Verona 6, Benevento 0. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, Difra ora il derby, Difra sta per Di Francesco, la Roma trionfa a Firenze, pensa alla stracittadina, poi sempre lui, Higuain, che ha regalato la vittoria alla Juventus con il Benevento, il Milan passa con il Sassuolo, Montella salvo, dice avanti così. Noi chiudiamo per quanto riguarda i quotidiani sportivi nazionali con tutto sport, grande toro a San Siro, eppur si gode, si parla della Juventus, con la vittoria con il Benevento. Torniamo ai quotidiani di casa nostra, al centro per parlare del Pescara, Pescara che fa spesa in Sud America, in settimane i dirigenti andranno in Argentina e Uruguay, a caccia di talenti per il futuro. Vediamo le pagine interne, abbiamo già visto la Serie A, risultati e classifica, le pagine interne che riguardano le formazioni abruzzesi. Ripartiamo dal Pescara, Pescara che va in Uruguay, si chiude per il Baby Ginella. Mercoledì il vicepresidente Bancoschi ed il direttore sportivo Luca Leone partiranno per il Sud America, nel merino anche l'attaccante argentino Farias. Domani Pavone invece sarà in missione a Sofia, in Bulgaria. E intanto Benali convocato dalla Libia per la gara con la Tunisia che si giocherà sabato, domenica a Bari. Ci sarà e dunque verrà recuperato proprio all'ultimo istante Benali, sabato giocherà con la Libia e domenica sarà a Bari. A proposito di Serie B, ieri si è giocato il posticipo, uno dei due posticipi del torneo cadetto, con il pareggio tra Empoli e Spezia. 1-1 il finale con le reti di Mastinu per la formazione Ligure e Pasqual per l'Empoli. Vediamo in basso, si parla ancora del problema nazionale che hanno alcune squadre per quanto riguarda le partite di campionato. Lupo, il direttore sportivo del Palermo, dice per riavere i nazionali ci siamo appellati al buonsenso. A proposito di nazionali, domenica il Pescara giocherà a Bari senza Capone che giocherà con l'Under-19. E a proposito di Serie B, c'è un esonero in casa della Virtus Entella via Castorina, il pari con il Cesena. È costato la panchina Giampaolo Castorina al suo posto. Dovrebbe arrivare o meglio tornare in Liguria Alfredo Aglietti che ha già guidato la Virtus Entella. E siamo al Teramo, Teramo senza coraggio, ennesimo pari 0-0, molto deludente nella gara del Bonolis con la formazione Bolzanina del Sud Tirol. E intanto Modena verso la radiazione, torneo stravolto, i gialloblu non si presentano per la quarta volta, che ha fatto punti contro di loro. Se li vedrà togliere. E ieri nella gara poi giocata in serata c'è stato il pareggio tra Feralpi Salò e Padova 2-2. Scusate il risultato finale, Asta al termine di Teramo Sud Tirol dice, teniamoci stretti, sette risultati utili di fila. Per la trasferta di mercoledì a Trieste intanto appare difficile il recupero di Varas. Vediamo anche gli altri risultati del girone B. Fermana al Binone F 0-3, Mestre Bassano 1-0, Pordenone Triestina 2-4, Reggiano Fano 1-0, Renate Gubbio 2-1, Vicenza San Benedettese 2-1. Vediamo anche dal messaggero le pagine dello sport partendo dal Pescara. Pescara niente illusioni, parla di Bivi che ha giocato con i Biancazzurri e con il Bari. Squadra in crescita ma difficilmente, dice Bivi, diventerà Zemaniana. Intanto a Pescara da oggi c'è l'Under 21, giovedì giocherà un amichevole allo stadio Adriatico alle 15.30 con i Biancazzurri. Under 21 che si allenerà per una settimana al Poggio degli Ulivi. Intanto Benali out ma forse torna Proietti per la partita di Bari. Ma abbiamo visto che probabilmente Benali riuscirà ad essere convocato per la gara di domenica al San Nicola perché sabato giocherà con la Libia e poi partirà per raggiungere direttamente la Puglia. In basso il Volley, la Sieco, Ortona vince ma pesa il punto lasciato in casa. Incredibile calo di concentrazione dopo i primi due set vinti in scioltezza. Si parla della vittoria degli Ortonesi con il Club Italia-Roma. Vediamo anche la pagina che riguarda il Teramo. Prima di andare a vedere il servizio, il Teramo va ancora in bianco. Teramo-Sud Tirol 0-0. Asta loro più insidiosi ma il risultato è giusto. Allora noi andiamo a vedere il servizio realizzato su questo pareggio tra Teramo e Sud Tirol da Ania Cantagalli. Il Teramo accontenta il suo allenatore che voleva perlomeno non perdere. Fa 0-0 contro il Sud Tirol ed arriva al settimo risultato utile consecutivo. Di buono c'è il punto che fa classifica per i biancorossi in difficoltà di manovra nel rendersi pericolosi in avanti. La gara non inizia bene per il Teramo perché Asta deve rinunciare a Varas nel riscaldamento fermato da un problema buscolare alla gamba destra. Al suo posto c'è Altobelli con Sales che va a fare tutta fascia a destra e con Ventola sul versante opposto. Zanetti dall'altra parte conferma il Sud Tirol che ha battuto il Vicenza nell'ultimo turno di campionato con il pinetese Rocco Costantino titolare. La prima frazione però corre sui binari nella noia. Il Teramo è attento nelle letture difensive soprattutto con Amadio e Ventola ma non trova i movimenti giusti per affondare il colpo in avanti. Tulli, ex di giornata, fluttua senza riuscire ad essere pericoloso mentre Barbuti fa grande fatica tra i centrali bolzanini. Di certo gli attaccanti non hanno una mano dagli esterni a trazione posteriore. Non che dall'altra parte poi si vedono cose più interessanti grazie all'attenzione biancorossa. E quindi il primo tempo è buono solo per vedere qualche scaramuccio in campo ed un doppio tentativo di Fink nel finale che Calore controlla. Gli animi caldi proseguono anche all'inizio ripresa prima di vedere Costantino cogliere di prima intenzione la traversa su una girata in area piccola. Lo spavento spinge Asta ad intervenire subito cambiando totalmente il riparto offensivo. Entrano quindi Foggia e Bacio Terracino per Barbuti e Tulli. La prima occasione del Teramo arriva però su un'incomprensione della retroguardia ospite. Sgarbi serve all'indietro Fredi di testa. Il portiere però è fuori posizione e deve rincorrere la sfera per impedire che finisca in porta. Per la terna la palla non oltrepassa la linea. Pochi istanti dopo Foggia gira di prima intenzione in area un cross di Sales ma il pallone termina alto. Al 27esimo De Grazia non si intende con il resto dei compagni da calcio d'angolo. Il su Tirol riparte in velocità con Ghiasi ma il suo tentativo finisce fortunatamente per il termo a lato. Asta cambia ancora, chiama fuori Amadio e De Grazia ed inserisce Fagioli e Graziano. Foggia ci prova al 40esimo spizzicando di testa un cross arrivato dalle retrovie ma il pallone si spegne a lato. L'ultima occasione per i biancorossi sarà un tentativo dal limite dell'area di Bacio Terracino per un pareggio alla fine sostanzialmente giusto e che proietta il Teramo verso la trasferta di mercoledì in casa della Triestina dell'ex Mirko Petrella. Siamo alla Serie D per parlare ovviamente in apertura del derby dei Marsi di ieri pomeriggio tra Avezzano e l'Aquila, pari e patta 1-1 il finale. Avezzano e l'Aquila si dividono tutto, vedete il titolo del messaggero, il derby finisce in parità. Meglio i Marsicani nel primo tempo in vantaggio con Dos Santos. Nella ripresa dominano gli ospiti che alla fine pareggiano. Con Rucci i protagonisti e soprattutto gli allenatori al 91esimo. Giampaolo nel finale ci siamo abbassati troppo. Battistini, tecnico aquilano, alla fine il pareggio è giusto ma c'è poi la rabbia del presidente Paris, presidente della formazione marsicana che dice inefficaci le nostre sostituzioni. Avevamo sentito ieri nel corso dell'Abruzzo del pallone l'intervista del patron marsicano ma allora andiamo a vedere le immagini del derby giocato al De Marsi appunto tra Avezzano e l'Aquila. Battiti accelerati e brividi sul prato e tutto intorno al rettangolo di gioco. Queste sono le giornate che fanno bene al calcio. Clima partita esagerato, Avezzano respira emozioni d'altri tempi. Il calcio che mette tutti d'accordo in un modo o nell'altro. Il calcio che resta nei ricordi dei bambini. Al campo e solo al campo, il diritto e l'onore del verdetto. L'undicesima di campionato, la Serie D presenta lo spettacolo del derby. Avezzano, l'Aquila per la prima volta in questa stagione. E sugli spalti si rivedono anche i volti delle istituzioni politiche. Battistini senza De Julis, Brenci, Boldrini, Ibbe e Ranelli con la testa lontana dai guai di tutti i giorni e la voglia di strappare al De Marsi. Gloria e risultato. Giampaolo all'esame più duro, quello dell'appuntamento con la storia di questo club. 4-4-2, l'undici allo stesso di Francavilla con Cerone e Dos Santos, terminali d'attacco. Il fischio di Camilli dice che si può cominciare subito i padroni di casa a spingere. Al quarto, menna dalle retrovie, lancia Pellecchia oltre la retroguardia avversaria. Tocco morbido a scavalcare il portiere, traiettoria splendida ma di poco imprecisa. Minuto 9, Cerone si incarica della battuta del primo angolo casalingo. Palla tesa nella mischia, Bianciardi di testa non trova le misure. E proprio Bianciardi è costretto ad una vistosa fasciatura sulla testa dopo uno scontro di gioco in area bianco-verde. Si vede l'Aquila al 24esimo, Pupeschi si inserisce tra le linee, a tu per tu confanti di collo pieno spara alle stelle. Gli spalti crollano alla mezz'ora spaccata a Samba al De Marsi. Dos Santos in contropiede si fa tre quarti di campo, palla al piede. Pellecchia a rimorchio più defilato, il brasiliano si sposta sul mancino e infila la rasoiata a incrociare sotto la nord. Dos Santos, travolto dagli applausi a quattro giorni dal capolavoro balistico, valso l'1-1 contro il Francavilla. 36esimo, pericolosa l'Aquila, valente pennella dai 35 metri. Dormita difensiva casalinga, Pupeschi di testa, troppo centrale e Fanti può bloccare. Al 41esimo, palla persa dall'Avezzano al limite dell'area, Padovani di potenza sotto al 7, la sfera di un niente al di là del palo. Meglio l'Aquila, nel finale passata al 3-5-2, occasionissima al minuto 42, traversone dall'out di destra, palla da attraversare l'area piccola. Non arriva Fabrizi che resta ferito, saranno necessari i sanitari, Battistini costretto al cambio. In campo l'ex bianco-verde Federico Di Paolo. Il primo tempo si chiude dopo quattro minuti di recupero, vantaggio a Vezzano all'intervallo. 15 minuti di riflessione per entrambe e di recupero in vista della ripresa. Ricominciano gli stessi, 22 e l'Aquila immediatamente alza la linea del pressing. Valente al settimo se ne va al raddoppio sulla destra e calcia a rete, Fanti a mettere in angolo. E sempre Fanti al nono sul raso terra ravvicinato di Sieno. Al dodicesimo però l'occasione più accattivante sui piedi di Dos Santos. Servizio al bacio di Pellecchia il brasiliano, tutto solo a tu per tu con Farroni in crocia fuori dallo specchio. Gian Paolo cambia tutto e inserisce un difensore per un esterno di centrocampo, fuori Pellecchia dentro Tariuk. Nello stesso momento Battistini richiama Esposito in campo Marra. Si fa vedere Persi al quarto d'ora dal fondo il cross per Dos Santos, provvidenziale Farroni a liberare l'area. 24esimo Ceroni abbandona il terreno di gioco per Piotr Branicchi. Battistini concede 20 minuti a Boucher a rilevare il classe 98 Sieno. Ora è l'Aquila a fare la partita e l'Avezzano si chiude a Riccio cercando di gestire l'1-0. Al 33esimo Gian Paolo cambia Lombardo che bene aveva preso le misure su Valente con Scutti. Il tema tattico dice che gli ospiti tengono sul baricentro con i biancoverdi arroccati negli ultimi 40 metri. I pericoli arrivano sempre dalla sinistra e al quarantesimo arriva meritata la rete del pari. Pala da posizione defilata in area di rigore. Ucce smaliziato si infila nell'angolino dove Fanti stavolta non può arrivare. L'1-1 è servito a 5 dalla fine. E allora prova a ricercare il vantaggio l'Avezzano al 46esimo. Sugli sviluppi di un corner Persia pennella per Sbardella anticipato da un difensore ospite al momento dello stacco. 5 minuti di recupero e questa sarà l'ultima occasione del derby. Il match finisce qua senza vincitori nebbinti. Aquilani festeggiati dagli spalti rosso-blu. Il punto portato a casa vale l'impresa di giornata. Avezzano con l'amaro di chi poteva fare qualcosa in più. Colpevole di aver rinunciato a giocare davvero troppo presto. Grande spettacolo sugli spalti, oltre 1.600 tifosi. Vediamo anche come il centro commenta questo derby del Dei Marsi. Ruci replica a Dos Santos. L'Aquila, Avezzano pari. Vedete il titolo. Biancoverdi passano in vantaggio con il bomber brasiliano. Ed escono di scena. I cugini creano occasioni in serie. Spettacolo sugli spalti. Vediamo sotto poi sfiorata la rissa nel tunnel verso gli spogliatoi. E in sala stampa brutte immagini dopo una gara corretta in campo. Direi soprattutto sugli spalti. E questo va dato atto ai tifosi delle due squadre. Paris al veleno, ne parlavamo prima. Non amo i catenacciari. E poi i fanti. Ogni domenica subiamo un eurogole. Mi dispiace per i tifosi, ha detto il portiere Avezzanese. Andiamo avanti perché da un derby ad un altro. Noi ci spostiamo adesso a Pineto per vedere questo 2-0 tra Pineto e Francavilla. Vittoria della formazione di Amaolo. Terzo successo consecutivo per i pinetesi. Ieri le reti di Battista e Mariani. Amaolo dedica la vittoria al figlio e dice bravi e concreti. Iervese non ci sta. Scusate, sconfitta assurda. Meritavamo noi. Questo è il servizio sulla partita Pineto-Francavilla che andiamo a vedere nelle parole di Roberta Di Sante. Vai Biancazzurri, derby del Mariani-Pavone tra Pineto e Francavilla al termine della partita combattuta ed equilibrata, ben giocata da entrambe le compagini. Iervese conferma in blocco la formazione che nel turno infrasettimanale ha pareggiato con l'Avezzano. Amaolo invece è costretto a rinunciare in extremista a Fiumara. Così arretra Prezzotti a terzino sinistro ed inserisce Battista e Di Rocco con Bisegna alle spalle di Gragnoli. Il Francavilla approccia meglio la gara nei primi minuti. La squadra di Iervese tiene il baricentro molto basso ed è subito aggressiva sui portatori di palla del Pineto. All'undicesimo sugli sviluppi del corner battuto da Micicè, Youssif di testa spedisce alto. Al quattordicesimo invece è Zerbo ad anticipare la difesa bianca-azzurra, ma trova pronta la risposta di Mazzocchetti. La prima occasione per il Pineto al ventiquattresimo sugli sviluppi del calcio dalla bandierina battuto da Bisegna. Pezzotti trova il filtrante che termina di poco a lato, mentre alla mezz'ora lo stesso esterno servito da Mariani fa partire un velenoso tiro cross. Ma all'altezza del secondo palo non ci sono maglie azzurre pronte alla deviazione. Nella parte finale di primo tempo il Francavilla si fa nuovamente pericoloso. Al quarantunesimo con un calcio di punizione di Zerbo parato da Mazzocchetti e con l'ultimo acuto al quarantatreesimo. Un'azione insistita che porta i francavillesi alla doppia conclusione, prima con Micicè murato da Pepe e poi con Mancini che non trova la porta. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i giallorossi ospiti calano i ritmi rispetto alla prima frazione di gioco. La gara è comunque agonisticamente combattuta e scivola sul filo dell'equilibrio. Al tredicesimo Amaolo opera un doppio cambio. Farias prende il posto di Gragnoli in avanti e Cercelluti rileva di Rocco. E proprio il neo entrato al sedicesimo si rende autore di un grande affondo sulla destra che porta al vantaggio pinetese. Il cross al centro di Cercelluti viene appoggiato da Farias per Battista che scavalca, spacca e porta in vantaggio i suoi. La risposta del Francavilla non tarda ad arrivare e passa per i piedi del neo entrato Banegas che si gira e fa partire la conclusione al lato. Ancora Banegas al ventiseiesimo scambia con Di Renzo. Il tiro cross attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo. Passano due minuti e dalla parte opposta Farias raccoglie sulla sinistra. Si gira bene ma la spera termina alta. Al trentacinquesimo il Pineto raddoppia. Suazione d'angolo di Pezzotti. Mariani stacca di testa per il 2-0 Biancazzurro. I due corrono ad esultare sotto il settore dei propri sostenitori. Ma proprio in quel frangente l'arbitro sente qualche parola di troppo da parte del numero 20 pinetese ed estrae il rosso diretto all'indirizzo di Pezzotti. Assenza pesante per Amaolo nelle prossime partite. E' Pineto costretto in dieci nel finale col Francavilla che tenta il tutto per tutto. Il forcing giallorosso però non produce gli effetti sperati. L'ultima occasione è ancora per Banegas in pieno recupero. Ma Mazzocchetti non si fa sorprendere. Matura così la terza vittoria consecutiva per il Pineto. Tre punti d'oro ottenuti contro un Francavilla che vende cara la pelle in un derby bello e agonisticamente combattuto. Così la squadra di Amaolo scavalca proprio i giallorossi in classifica che restano invece a quota 16. Vediamo anche le altre abruzzesi. Siamo sulle pagine del Messaggero in questo ping pong tra Messaggero e Centro. Nero Stellati si arrendono con onore alla Vis Pesaro. I marchigiani si impongono per 2 a 0. Di Marzio dice tecnico della formazione Peligna. Finora solo Big. Da domenica si cambia. E poi Leonetti boom boom. Lavastese terza doppietta dell'attaccante decisiva per battere l'Agnonese. Il gol dell'ex Santoro stava per rovinare i piani ai padroni di casa. Andiamo a vedere anche sul centro. Ecco qui l'articolo che riguarda Lavastese. Leonetti da urlo e al 91esimo trova la vittoria. 2 a 1 con la formazione molisana che ha reso la vita difficile i ragazzi di Gianluca Colavitto. Allora noi possiamo andare a vedere le immagini, il servizio sulla gara dello Stadio Aragona con la vittoria della formazione bianco-rossa per 2 a 1. Una doppietta di Leonetti con il secondo gol realizzato al 91esimo permette a Lavastese di riprendere la sua prepotente marcia nelle zone altissime della classifica grazie al 2 a 1 sofferto ma meritato ottenuto a spese dell'Olimpia agnonese al termine di una gara molto combattuta. Per la formazione abruzzese si tratta del settimo risultato utile e consecutivo frutto di 6 vittorie ed un pareggio. Superare la squadra molisana non è stato affatto semplice ma la perseveranza di Fiore e compagni è risultata determinante per conquistare il successo pieno che ha un valore davvero inestimabile. Area di derby all'Aragona dove sugli spalti fra i 700 presenti ci sono anche una cinquantina di tifosi molisani. Al quinto il primo acuto e ospite con Cassese che in area abruzzese in posizione precaria mette alto. Ma la formazione di casa è quanto mai cinica visto che nella prima azione offensiva al 14esimo trova il vantaggio con Stivaletta che se ne va sulla destra e crossa a centro area un pallone d'oro per Leonetti che di piatto mette alle spalle dell'incolpevole Faiella. Esplode sugli spalti la gioia dei tifosi bianco-rossi che continuano ad incitare a gran voce i propri Beniamini. Di contro la squadra Granata dopo aver accusato il colpo per qualche minuto cerca di reagire e si rende pericolosa al 29esimo con un tiro di Di Lollo che mette di un soffio fuori. Si tratta del preludio al gol del pareggio che arriva al trentesimo con Santoro che con un tiro angolato supera Camerlengo. Tutto da rifare così per i padroni di casa che subito dopo il pari ospite si rivedono al trentonesimo con lo scatenato Leonetti che manca il bersaglio grosso. La squadra del presidente Bolami riprende pian piano a premere e al quarantesimo ancora una buona opportunità con De Feo che alza però sopra la traversa. Gli ospiti non stanno certo a guardare spesso ripartono con veloci ripartenze. La gara resta così in equilibrio con una punizione allo scadere di Pizzutelli di poco fuori misura e con l'1-1 con cui si chiude il primo tempo e che accompagna così le due formazioni negli spogliatoi. Nella ripresa al sesto subito padroni di casa insidiosi ancora con De Feo che sfiora il 2-1 ma con la sua conclusione che si spegne di pochissimo a lato. Al sedicesimo Stivaletta pesca molto bene De Feo in area ospite che però incorna a lato da ottima posizione mancando il gol del vantaggio. Preme l'11 di Gianluca Colavitto con gli Sernini a difendere sulla propria metà campo. Al ventesimo però la formazione del ex Pino Di Meo con Margarita si rende pericolosa ma la sua conclusione sporca si spegne fra le braccia di Camerlengo. Ancora Vastese però al ventiseiesimo e sempre con Leonetti che prima del limite non inquadra lo specchio della porta difesa da Faiella. Dalla parte opposta Santoro sempre il più temibile fra gli ospiti si rende pericoloso al trentatresimo quando dai venti metri chiama il portiere della formazione abruzzese alla deviazione in calcio d'angolo. Al quarantunesimo proteste locali per un sospetto tocco con la mano di un difensore molisano in area ma Ancora di Roma lascia proseguire fra le proteste vibranti degli abruzzesi. Poi il convulso finale con gli attacchi abruzzesi che regalano il gol della formazione bianco-rossa con Leonetti di testa al quarantaseiesimo una rete pesantissima per gli aragonesi che conquistano grazie alla doppietta del bomber tre punti di platino. Festa grande dunque a vasto per questa vittoria ottenuta in extremis con i cugini molisani vediamo anche gli altri due articoli che riguardano i nerostellati il bunker non resiste cadono i nerostellati una punizione di radi della vispesaro scombina i piani preparati da Di Marzio che dice al novantunesimo troppo di vario. Poi in basso il San Nicolò che si riscatta Di Benedetto affonda la Re Canatese e salva la panchina del tecnico Luca Campanile successo dei biancazzurri proprio sul campo della formazione marchigiana la rete proprio di Di Benedetto al sesto minuto del ripresa. Allora noi possiamo andare a vedere il servizio su questa importante preziosa vittoria della formazione teramana in casa dei leopardiani. Fondamentale successo per il San Nicolò che nello scontro salvezza del Tubaldi batte di misura la Re Canatese esce dalla crisi e aggancia proprio i rivali di giornata e l'Agnonese una gioia che mancava dallo scorso 23 settembre 4-3 al Pineto per un San Nicolò che arrivava all'impegno in terra leopardiana con un solo punto nelle ultime cinque partite mentre la Re Canatese aveva tratto giovamento dalla cura del neotecnico Alessandrini 4 punti nelle ultime due gare senza Mozzoni e Pretara il tecnico Campanile rimette dentro dal primo minuto Sassarini e Marra recupera Gori tra i pali e schiera Massetti sulla sinistra nella Re Canatese subito in campo il difensore Nodari ex Fano arrivato proprio in settimana le prime battute di gara mettono in evidenza la giornata di Vena del San Nicolò al terzo volata Didi Benedetto conclusione dal limite smorzata proprio da Nodari facile l'intervento di Marellino l'estremo di casa impegnato molto più severamente l'undicesimo sventola di Chiacchiarelli e respinta di pugno di Marellino ancora San Nicolò al ventunesimo con un'azione di ripartenza nella quale in Diaglie serve Sassarini il cui sinistro dalle limite finisce tra le braccia di Marellino al ventiquattresimo la punizione di Chiacchiarelli viene incornata da De Santis tuttavia centralmente la migliore palla gol per il San Nicolò giunge al ventiseesimo Marra serve Maisto che centra per la corrente Sassarini sul cui tiro Marellino non è perfetto ma viene salvato dal palo intorno alla mezz'ora si svegliano i padroni di casa e Giaccaglia a scaldare i guantoni di Gori trentaseiesimo Re Canatese che impatta il conto dei legni con Ndiaye e Petronio a terra i leopardiani continuano l'azione Monachesi serve Palumbo che coglie l'incrocio dei pali reti bianche così all'intervallo nella ripresa subito due cambi per i padroni di casa e uno per il San Nicolò Re Canatese vicina al vantaggio uno dei neoentrati Negro coglie il palo al quinto sulla respinta si avventa Senigalliesi che calcia fuori e allora due minuti dopo il San Nicolò Marra sfonda sulla destra e serve Sassarini Maraglino si salva di nuovo con l'aiuto del palo ma nulla può sul tap-in di Marco Di Benedetto 0-1 e quarto gol in campionato per l'ex giocatore della Virtus Ranciano la Re Canatese risponde il diciottesimo con il piazzato di Palumbo intercettato da Gori lo stesso portiere del San Nicolò al ventisettesimo risponde alla botta di Senigalliesi sulla respinta si avventa De Luca che viene fermato in offside al trentatresimo Marra approfitta di un errore in disimpegno della Re Canatese ma non è preciso nel finale i consueti tanti cambi forcing confuso della Re Canatese il San Nicolò non rischia mai grosso e può festeggiare i tre punti che ridanno forza anche alla posizione del tecnico campanile in vista di un altro scontro diretto quello di domenica prossima contro il Monticelli Siamo quasi in chiusura andiamo a vedere cosa è successo nei campionati regionali di eccellenza e promozione di calcio partiamo dall'eccellenza Chieti due volte un solo punto 3 a 3 al Guido Angelini con il Cupello vediamo anche gli altri risultati Penne-Sambuceto 1 a 1 Capistrello Montorio 3 a 1 Angolana River Chieti 3 a 0 vediamo anche la vittoria importante importantissima del Giulianova che cala il Tris la capolista sale a più 6 grazie al 3 a 0 ottenuto sul campo del San Salvo tra l'altro allenato dall'ex Teatino Sgherri e poi le altre partite Amiternina Paterno 1 a 1 Spoltore Alba Adriatica 2 a 0 Miglianico Torrese 2 a 2 Martinsicuro Acqua e Sapone 4 a 1 vediamo il campionato regionale di promozione partiamo dal Girone A Celano Marsica Ponte Vomano 2 a 2 Santomero Fontanelle 0 a 0 Mosciano Rosetana 1 a 0 San Gregorio Nuova Sant'Egidiese 3 a 1 Virtus Teramo Notaresco 4 a 0 Pucetta Mutignano 1 a 0 Morrodoro Tossicia 1 a 0 San Gregorio Nuova Sant'Egidiese 3 a 1 Cologna Piano della Lente 1 a 0 Alba Montaurei Luco Dei Marsi 0 a 3 e siamo al Girone B Ortona Castiglione 4 a 1 Vittoria Primato per la formazione ortonese poi Casalbordino Fate Rangelini 0 a 1 Virtus Pratola Piazzano 1 a 1 Val di Sangro Bucchianico 2 a 1 Real Treciminiere Casolana 1 a 1 Raiano Fossacesi 3 a 2 Il Delfino Sport Celano 1 a 1 Palombaro Passo Cordone 1 a 2 Villa 2015 Sul Mona 3 a 0 Lasciamo il calcio dopo questa ampia pagina per andare a vedere cosa è accaduto nel basket per il Roseto non ci sono buone notizie anzi soffiano venti di crisi per i bianco celesti battuti in casa per 88 a 72 anche dal Piacenza Roseto ultimo in classifica da solo con 0 punti per la formazione rosetana davvero un periodo nerissimo e domenica prossima ci sarà la gara in casa del Bergamo che è penultimo con 2 punti sesta sconfitta come leggiamo per gli Sharks ancora fermi al palo Infantelotta ma Combs è un corpo estraneo di Paolo Antonio il coach dei rosetani dice ci serve un rinforzo subito troppi infortuni oggi questo è il nostro valore a volte facciamo errori da mini basket ha detto il coach rosetano vediamo cosa è accaduto in serie B siamo sempre alla palacanestro palacanestro maschile con la sconfitta netta dell'Ortona con il Val di Ceppo 76 a 52 poi l'amatori che piega il nardò e rompe il tabù del pala elettra dove aveva sempre perso quest'anno e vinto sempre in trasferta questa volta i ragazzi di Raiola hanno battuto il nardò per 89 ad 86 il Teramo reagisce dopo la sconfitta proprio casalinga con il Pescara andando a vincere per 89 ad 82 sul parquet dell'Olimpia Matera e poi Globo Campli batte il Porto Sant'Elpidio per 71 a 68 per il Giulianova una vittoria corsara sul parquet del Re Canati per 67 a 60 e poi Sieco Banks pronto al rientro l'opposto slovacco dovrebbe tornare domenica a Bolzano ricordiamo che nell'ultimo turno l'Ortona ha battuto per 3 a 2 la Roma come vediamo anche da questo specchietto Ortona che ha 15 punti in classifica e come detto nel prossimo turno giocherà sul campo del Bolzano che è penultimo con 5 punti siamo davvero in chiusura prima dobbiamo però parlare di rugby e vedere cosa è accaduto ieri l'Aquila sfiora l'impresa ma deve inchinarsi a Prato e Cavalieri che si impone per 17 a 12 per i Neroverdi la prima sconfitta Rotilio il coach il tecnico della formazione Aquilana dice non siamo stati messi sotto il campionato ora si ferma e torna tra un mese il 3 dicembre con il derby e proprio l'altra formazione Aquilana il Gran Sasso è stata sconfitta per 38 a 18 dal Benevento vediamo la classifica Cavalieri Prato 20 l'Aquila e Benevento 16 Perugia 14 Primavera Roma 12 Gran Sasso Rugby 9 punti nel prossimo turno come dicevamo il 3 dicembre si giocherà l'Aquila Gran Sasso dunque il derby noi siamo in conclusione dell'appuntamento di oggi il primo della settimana con Mattino 6 io ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prima edizione del TG6 come sempre alle 14 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.